Gli ambulanti del mercato settimanale di Foggia sul piede di guerra alla luce di aumenti inconsiderati secondo questi ambulanti per quanto riguarda il canone unico. Noi siamo con Savino Montaruli, che sta succedendo? Noi abbiamo già da tempo contestato la cattiva applicazione del canone unico mercatale da parte del comune di Foggia. Lo abbiamo fatto già l'anno scorso, due anni fa da quando è entrato in vigore il canone unico, anche con il prefetto manifestando la problematica che è di natura importante. Vi spiego, si paga addirittura fino a 1.500 euro per un'occupazione per sole 52 giornate l'anno a fronte di una media anche provinciale che non supera i 300-350 euro. Peraltro le modalità di calcolo del canone unico mercatale patrimoniale sono state oggetto di ben due risoluzioni da parte del MEF, del Ministero delle Economie e delle Finanze, che ha correttamente interpretato le modalità di calcolo. Noi sollecitiamo a questo punto il Sindaco che ovviamente si è ritrovata questa situazione ma deve intervenire perché la modifica sia del regolamento che delle tariffe è qualcosa che renderebbe giustizia innanzitutto. E poi non dimentichiamo che stiamo parlando del mercato del venerdì di Foggia che purtroppo nel corso degli anni ha perso non solo di attrattiva ma ha perso moltissimi operatori. Ricordiamolo che era uno dei mercati più numerosi dell'intero meridione d'Italia con quello di Andrea superava addirittura i 700 operatori, oggi se ne contano meno di 300. Questo decadimento progressivo rappresenta anche un problema occupazionale. Quindi il Sindaco, la Sindaca in questo caso ci convochi, trattiamo sicuramente l'argomento anche in termini sociali e occupazionali ma soprattutto rendiamo giustizia rimodulando quel calcolo non con delle formule agevolative ma semplicemente rapportandolo a quello che la legge prevede. Perché oggi il Comune di Foggia sta introitando illegittimamente delle somme da parte degli operatori del mercato. Lo dico illegittimamente perché ci sono documenti, ci sono regolamenti che evidentemente sono stati disapplicati.